La vita sulla Terra sulla verticale dell'oceano solleva le acque di questo oceano e questa onda di marea si propaga da est verso ovest mentre la Terra ruota da ovest verso est ma quest'onda che si propaga da est verso ovest fa attrito con il fondo degli oceani e quindi la Terra rallenta di circa 2 secondi ogni 120.000 anni così che tra 600 milioni di anni la durata del giorno non sarà più di 24 ore bensì di 28 ore probabilmente il clima con 28 ore come durata del giorno il clima della Terra non sarà più vivibile.